Sostenere le fasce più deboli nel diritto alla casa. Va in questa direzione il patto dell'abitare sottoscritto oggi tra il Comune di Pesaro e 11 realtà territoriali coinvolte nelle politiche dell'abitare. Dalla Caritas alla Federazione Agente Immobiliare, dalla Federazione Mediatori alle principali sigle sindacali a tutela degli inquilini. Non ci soffermeremo solamente sul concetto dell'accesso al bene casa come infrastruttura. E poter dare offerta abitativa significa anche ripensare e ripianificare la città anche da un punto di vista del patrimonio edilizio residenziale sia pubblico che privato. Dunque il filo conduttore è principalmente coinvolgere anche il privato in un'ottica di partenariato pubblico privato. Partenariato pubblico privato per instaurare politiche di welfare abitativo, di rigenerazione dell'edilizia residenziale pubblica e strumenti finanziari innovativi. Linee di intervento per rispondere ad una questione abitativa sempre più complessa. Che non riguarda più solamente le categorie fragili alle quali noi rispondiamo con l'ERAP, l'edilizia residenziale pubblica e quindi con anche l'aiuto a livello regionale di ERAP. Ma abbiamo purtroppo una crescita di questa criticità che a livello nazionale ha percentuali che vanno dal 20 al 40%. Siamo anche una città che ha un tipo di offerta e di mercato sfalzata dal fatto che siamo una città balneare quindi risente della stagionalità dell'offerta abitativa. Bisogna che abbiamo contezza di quello che noi possiamo mettere a disposizione della nostra comunità appunto per accedere al bene casa. Contezza quindi fare un censimento, una mappatura con l'aiuto anche delle associazioni di categoria come sono i rappresentanti delle agenzie immobiliari che abbiamo appunto chiamato al nostro tavolo insieme anche ai rappresentanti degli utenti ovviamente quindi tutti i sindacati che si occupano di questo settore e ovviamente saremo felici anche di allargare questo tipo di patto anche ad altre rappresentanze come quelle dei proprietari e via dicendo. Il modello che noi abbiamo seguito è il piano casa di Bologna che è una proposta che è stata fatta e inserita nell'ambito della rete ANCI e abbiamo anche altri comuni di riferimento che hanno deciso di affrontare questa criticità.